Confermate dal Tribunale del Riesame le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Catania Loredana Pezzino nell'ambito dell'inchiesta denominata Tabula Rasa condotta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Riposto. Dopo la scarcerazione di Giuseppe Di Stefano tornato libero e la concessione dei domiciliari per Giuseppe Crisa Fulli il Riesame ha quindi ritenuto grave gli indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Martedì sono state discusse le posizioni di Carmelo Di Leo e Daniele Mannino, entrambi già i domiciliari di Davide Maccarone, Costantino Taglia e di Roberto Laspina quest'ultimo ritenuto dalla procura di Catania la mente e l'artefice della rete di spaccio riuscita a penetrare nelle fiorenti piazze di Taormina e Giardini Naxos. Ma nel corso dell'udienza, proprio i legali di Laspina, Lucia Spicuzza e Salvo Sorbello hanno sollevato una serie di questioni procedurali ma anche l'illegittimità delle intercettazioni eseguite nei confronti del proprio assistito. A quel punto i giudici del collegio hanno disposto un rinvio al 10 aprile per acquisire ulteriori informazioni ma il Tribunale alla fine ha confermato tutte le ordinanze di custodia per i cinque indagati. Adesso si attendono le motivazioni del dispositivo. Siamo fiduciosi, hanno dichiarato gli avvocati Spicuzza e Sorbello preannunciando il ricorso in Cassazione che le questioni sollevate in sede di Riesame vengano accolte dai giudici di Roma. Grazie a tutti.